Bella ragazzi bentornati sul mio canale, siamo qui oggi con questo nuovo video Oggi Juventus-Inter Raga, non voglio dire nulla perché parlo alla fine Parlo alla fine, godiamoci la partita e speriamo Cosa? Almeno spero di essere tranquillo e di non essere nervoso a fine partita Dico solo questo Quindi tutti insieme Amalá Atzai in der Amalá Una gioia finita Che dura solo questa giornata Lo speriamo tutti noi Vabbè Si parte Dai ragazzi, dai, 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 dai Dai ragazzi Bello Mettila La chiesa a sponda Madonna No Sarrande, scrignar No Alla e mezzo No Ma va fangu Guarda, rigore per l'aiuto Guarda, rigore per l'aiuto Sì, esattamente Annetto Ragazzi, eccolo qui, rigore per l'aiuto Ecco, è arrivato, l'ha arrivato l'aiutino Ma che è stato l'aiutino? Prima fanno tutti ieri Eh, vediamo, lo vediamo subito Vediamo l'intensità Vediamo questa intensità La famosa intensità Ma prima vediamo No, no, vediamo Vediamo la famosa intensità Vediamo 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 Allora, su Chiellini in teoria Perché Chiellini ha protestato un so Ma che ha fatto il Darmiano? Eh, guarda lì Guarda lì, è il Darmiano No, no, ovviamente Oh, Andre, guarda lì Il pallone non ha guardato proprio Vediamo, vediamo Il pallone non ha guardato proprio Ma ci sono d'accordo, ma voglio vederlo meglio Dai, guarda lì, così Rico Goto Bravo per Darmian Ma che cazzo fai, Darmian? Va Cioè, perché ti ha attenuto? Io non l'avevo visto E' stata attenuta Però sì, effettiamo Bravo Darmian Qua ci leggo Vediamo Ronaldo Sì! 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 Vamo! Sì! Vamo! Sì! Vamo! Su! Che culo rotto, mamma E andiamo! Che culo rotto E andiamo! Che il cuore l'avrei sbagliato Che schifo di rigore ha tirato Vai, che mazzo Culo in bocca Dai, cazzo! Culo in bocca Dai, cazzo! Culo in bocca Comunque Voi sottato così tanto Chiariamo Perché prima della partita hai detto Tati Eh, ma il rigore secondo me Non può mai sbagliarlo E' impossibile, Andre Ma come parlo? Sì, sei buttato da solo, eh Ma vediamo Ma questa è simulazione Ma vediamo Se l'ha toccato, Tati, Enrico Io non l'ho visto che l'ha toccato Io non l'ho visto niente No, per chiamarlo al bar Non si vede niente Non si vede niente Che cacchio è successo? Non si vede niente da qua Ah, ah, ah Prima forse Eh, ma la cosa non si vede niente Ah, il pestone di... Ah, da dietro, guarda Ah, effettivamente sì È rigore questo Eh, effettivamente sì È toccato Allora, se l'ha piccata il rigore Allora, io non l'avevo visto poco È rigore Eh, neanche l'avevo visto Allora, Tati è rigore Non è rigore Ok Ma vediamo cosa gli dà però Se l'hanno chiamata È rigore niente 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 Guardi niente Di rigore Lukaku Sì Dai, dai, dai Che è lunga, Dati è lunga Non ti preoccupare Puoi sempre vincere È lunga È lunga È lunga, Dati È lunga Pensa che stai avanti con un rigore Non preoccupare, è lunga Vabbè, ma non è risultato Ah, sta scrivendo il foglio A chi? È lunga, è lunga È lunga Vabbè che sta dicendo che non è rigore Non è rigore Se non è rigore chi stai Non è rigore niente 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 Ma questa è arrivato Un'ora 15 seconde Rigore Oh Bello È Quadrato 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 Ma che cazzo di cosa ha fatto Ha deviato Ha deviato Ha deviato Bull Ha magari Ma che cosa Che bull ha fatto Collasso colasso amici dai ma te capisci in quei secondi dopo manco di segnare colasso ma che cacchio voglio cercare gli occhi vediamo questo colasso di guardato allora vediamo il pianista che schifo bravo Andanovic guarda dove è andato da là quella stella da palo non l'ha presa va giù si è spostato va giù si è scansato va giù si è abbassato no va giù vi prego si è scansato Andanovic no 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 non esiste no si è scansato va giù stai vi dice la verità si è scansato l'ha vista l'ultimo si è scansato ma non mai avevo paura allora pallo ma non potete arrivava in faccia che ne so finisce qua primo tempo andiamo al secondo rega si riparte col secondo tempo dai 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 ma non ci credo nessuno che fa sponda vai barella vai spi di pizza ma non lo fa tirare cioè è normale che rischiamo cazzo lo fate tirare pure sul destro lo fate andare bravo palla ma ha preso la palla quale palla quella parte che stai guardando da ti rosso per ventancura ho detto la Giamonito ho detto che la Giamonito ho detto che la Giamonito rosso per ventancura su questa chiave la chiave inglese di Peppe madonnina santa madonnina santa quanto stiamo rischiando ragazzi ho pagato stamattina non so madonnina bella e cara ma non è messino a giù madonna mia no 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 natato mamma mia no 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 io a giù va dire qui eh fanno un attimo è tutto parolino no 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 tanto non è salva parola queste gol si è benvenuto al coltesto ma sei era ragazzo e trattato da lucato ma che sta dice in quella nel fallo mai ma si è trattenuto lui a luca si è trattenuto lui a luca si è trattenuto di acchiali a luca che luca ma si fiscano comunque l'attacco perché la faccia ma no scusa ha trattenuto lui a luca ma non lo so vediamo vedete guarda lui si aggrappa a luca che luca guarda luca costando in avanti guarda la maglia di lupaco guarda la maglia di lupaco no voglio vedere però luca non è mai farlo a di questo non è mai farlo non è mai farlo niente lupaco non è mai farlo mai mai non è niente lupaco niente niente lupaco cosa gol sei 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 protestatore la giustizia se continui a protestare ci sta la giustizia buttalo fuori buttalo buttalo e guardano cacci c'è una giustizia di dire in questo calcio ed oggi si è visto ma sta ancora non è finita e ma vediamo quella aspetto alla fine che sa tutto il culo frana già prima chi le regole tra fischia nato è un cazzo e si è scemi stima 2 si mui dai no si dai ragazzi ma io questi vanno avanti così vanno avanti 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 però è riuscito a fare il proprio lo voglio vedere ah ecco fa vedere è netto è netto è netto da acqua dirvi no pericci se l'hai proprio portato via ora lì è netto eh c'è di qualche cosa hanno il culo che c'hanno ragazzi no devi ringraziare vi dirvi baciare i piedi sei andato a vado un'altra partita li ha salvato pericciz eh google a giù Cside! VAMOS! solo con la Juve si vedono queste cose veramente ma che ammazza ma che colore questo non è calcio questo non è proprio calcio non ti parli non so se stai godendo però parla pure tu Skeeee! adesso calma però calma perché domani gioca a Napoli calma calma graziati del padre eterno calma io domani ho ancora più voglia di vincere domani domani state tutti azzeccati alla televisione gufate bene domani pregate pregate e ti fatevi ora domani vogliamo tutti quanti a pregare ragazzi preghiamo da latino e i feels gamer è tutto noi ci vediamo al prossimo video bella raga